Ciao e benvenuto in questo video, io sono Alberto Ranzato, l'autore del libro e del programma Comunicazione Carismatica. Ho un'azienda di formazione tramite la quale, con consulenze, corsi di formazione e percorsi formativi, aiutiamo persone, professionisti, imprenditori, manager e imprese di diverse dimensioni in diversi paesi europei, ma anche in realtà un po' in giro per tutto il mondo, a migliorare la comunicazione, a migliorare la propria voce, a migliorare la gestione e la creazione delle emozioni nel momento in cui si comunica per aumentare l'efficacia comunicativa, aumentare i risultati nelle relazioni, nelle vendite, nel public speaking, nei video, insomma, dove è necessario comunicare con maggiore efficacia. In questo video andiamo a capire che cos'è la comunicazione carismatica e come ottenere una comunicazione carismatica. Molto bene, allora cominciamo subito col dire, prima di capire che cos'è la comunicazione carismatica dobbiamo fare un passo leggero indietro. Cosa vuol dire carisma e cosa vuol dire comunicare? Allora, carisma, ci sono generalmente poche idee ben confuse sul carisma e tralasciando le scimmie urlatrici da social network che ti dicono, non sapendo nulla, ma convinte di sapere sotto l'effetto del massimo effetto Dunning-Kruger, che il carisma o ce l'hai o non ce l'hai. Vabbè, senza sapere che il carisma è una conseguenza del comportamento, senza sapere la definizione di carisma. E allora, cerchiamo di fare un po' pace con il cervello, di collegare qualche sinapsi, collegare, mettere in contatto questi neuroni, così da accendere un pochino il pensiero, aumentare la nostra consapevolezza e capire effettivamente di che cosa stiamo parlando. Allora, comunicazione carismatica, il carisma da definizione è la capacità di comunicare, quindi è una conseguenza del comportamento, il carisma è una conseguenza del comportamento che fa sì che la persona carismatica sia in grado di attrarre l'attenzione degli altri e al contempo generare un'influenza sugli altri. La comunicazione è quell'atto fisico, generalmente, quando parliamo di comunicazione interpersonale, non comunicazione via mezzo stampa o quant'altro. Comunicazione interpersonale è la comunicazione dove, con un atto fisico, una persona muove il suo corpo, la sua voce, la sua mente e le sue emozioni per trasmettere un messaggio. Questa è la comunicazione interpersonale, dove c'è un emittente, c'è un referente, c'è un messaggio che viene ad essere trasmesso con una modalità per trasmetterlo. Ecco che allora questa modalità può essere una modalità che rispecchia quella definizione di carisma, cioè una modalità che attrae l'attenzione e al contempo esercita un'influenza. Ecco che allora la persona carismatica, il comunicatore carismatico è in grado di fare che cosa? di attrarre l'attenzione, di mantenerla e al contempo generare un'influenza sugli altri. Quindi, quali sono le due caratteristiche della persona carismatica? Prova a pensarci. Sono uno, l'affidabilità, e due? In grado di esercitare una? Esatto, quindi una influenza. Ok? Che nulla a che vedere con virus o compagnia bella, ma è la capacità di influenzare, di riuscire a lasciare il segno, di spingere all'azione, di provocare, insomma, una conseguenza nel comportamento anche di altre persone. L'affidabilità e l'influenza. Ci sono tre caratteristiche in realtà del carisma. Queste sono le caratteristiche della persona carismatica. Ci sono poi due caratteristiche del carisma, poi ti spiego anche tutte queste cose all'interno di un video training gratuito, lo puoi trovare in descrizione, durano una ventina di minuti, molto e molto interessante, dove ti spiego anche quali sono le quattro emozioni principali della comunicazione carismatica ed eventualmente come possiamo anche aiutarti. Potrai anche eventualmente parlare con un tutor che ti può dare una consulenza gratuita. Insomma, cerchiamo di capire se vuoi migliorare davvero, come si può fare. Detto questo, torniamo a bomba. Affidabilità e influenza, le due caratteristiche della persona carismatica, sono tre le caratteristiche del carisma, che sono calore, presenza e potere. Calore, presenza e potere. Io scrivo bene come uscito dall'università di medicina, cosa che avevo fatto anche per due anni, quindi quei due anni mi hanno rovinato la scrittura, però dobbiamo adattarci. Allora, calore, presenza e potere. Quindi la persona carismatica, o per ottenere una comunicazione carismatica, dobbiamo riuscire a modulare la nostra comunicazione, cioè il modo in cui noi parliamo, il modo in cui noi comunichiamo, usando gli elementi della comunicazione, per generare queste cose, per generare affidabilità, influenza, e soprattutto per riuscire a potenziare il nostro sistema, il nostro corpo, la nostra mente, eccetera, 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 per riuscire a comunicare, a trasferire agli altri quelle sensazioni di calore, quella sensazione di presenza, e quella sensazione di potere. Queste cose te le spiego molto molto meglio all'interno del corso di comunicazione carismatica, all'interno dei nostri programmi, ma voglio cominciare a dirti qualche cosina. Allora, l'affidabilità è fondamentalmente quel senso di fidarsi e affidarsi, giusto? Quindi mi fido e poi mi affido. Quando mi affido, allora se la persona è effettivamente preparata e se riesce a portare, a guidare l'altro, allora lo può spingere all'azione, quindi può coinvolgerlo in un qualche altro comportamento generando un'influenza, o comunque facendogli cambiare idea, o quello che può essere. Il calore, giusto per vedere una veloce definizione, il calore è quel senso di benevolenza, no? Hai presente quando incontri qualcuno che dici, ah, ma che piacere, ti dà una sensazione di calore, l'affetto, l'empatia, l'essere ascoltati. Ecco, queste cose qua ci danno calore. Dicono, questa persona è una persona che scalda il cuore. Quindi, alla comunicazione carismatica avrà dentro di sé anche quella capacità di comunicare dal cuore al cuore degli altri, di avere una comunicazione empatica, di avere una comunicazione affascinante, di avere una comunicazione vulnerabile, quindi di conseguenza coraggiosa. avrà la capacità di comunicare tutta una serie di emozioni belle, positive, che fanno star bene l'altro. Avrà anche la presenza, cioè la capacità di essere presente nel qui e ora, il gradicamento, la percezione del proprio corpo, un ascolto attivo, che quindi dice io sono qui, puoi contare su di me. E poi il potere, cioè la capacità mostrata attraverso atteggiamenti, mindset, voce e tanti altri elementi per dire ho un certo grado di potere o di controllo sulla mia vita e posso col mio potere aiutarti ad avere, a influenzare positivamente la tua vita o comunque ad ottenere dei risultati. Potere si può generare o dare la percezione di potere in tante modalità diverse. Sicuramente una di queste modalità, non tanto per generare potere ma per generare ad esempio calore, ci può essere anche la simpatia. E il nostro amico Ranzatino, io sono Ranzato, lui è Ranzatino, se non si era capito, e il Ranzatino è la versione della simpatia, ok? Quindi, quando non c'è dentro di me c'è nel Ranzatino, capito? Questa componente del calore. Detto questo, noi dobbiamo allenarci per migliorare la comunicazione carismatica per modificare quindi la nostra modalità comunicativa e quindi poi dobbiamo capire anche, lo capiamo tra poco, quali sono gli elementi della comunicazione per riuscire a generare tutte queste cose che non è una cosa semplice e la gente si dice carisma o ce l'hai o non ce l'hai. No, sei una scimmolatrice da social network se pensi così, non colleghi neuroni, il carisma è una conseguenza del comportamento per riuscire a generare queste cose. Quindi tu, modificando il tuo comportamento, tu puoi risultare più affidabile. Certo che sì, basta che mantieni le promesse, sei più affidabile. Certo che sì, e allora ce l'hai o non ce l'hai la capacità di mantenere le promesse? La capacità di essere una persona onesta è frutto del destino oppure è un frutto di una decisione? Che cos'è? Di educazione, di rispetto, che cos'è? La capacità di influenzare gli altri, questo può essere un pochettino più difficile, quindi qualcuno si rassegna o ce l'hai o non ce l'hai. Ma andava bene nel dopoguerra, io mi ricordo mia nonna che mi dice io non ho questa grande parlantina, questa cosa qua, ma non ti sei mai allenata, Porastella, hai sempre lavorato nei campi per tutta la vita e magari la comunicazione ce l'hai perché comunque carismatica lo sei, nonna, perché hai cresciuto nella famiglia con sette, otto figli, insomma quello che hai cresciuto e hai realizzato delle grandi cose. Però Porastella, lei mi dice io non ho questa parlantina, e ho capito, ma è una cosa un pochino diversa. Adesso questa scusa, perché è una scusa, ha meno senso. Quindi di conseguenza prendi la padronanza della tua vita per dire ok, posso e come posso soprattutto, posso migliorare la mia comunicazione per imparare a generare influenza, per essere più persuasivo ad esempio, per riuscire a coinvolgere di più gli altri? Posso farlo o non posso farlo? E soprattutto come posso farlo? Ok? Vedi queste cose qua sono cose che ti devi chiedere prima di tutto, prima di ottenere una comunicazione carismatica. Perché? Perché poi la puoi ottenere come agendo su tutte quelle cose che ti fanno aumentare con la tua comunicazione la percezione di calore, presenza e potere. Quindi riuscire a risultare più simpatico ed empatico, riuscire a risultare più calmo, più autorevole, e riuscire a risultare anche più entusiasta, più coinvolgente. Ecco, queste sono tutte cose che devi imparare assolutamente a fare. Per capire come fare tutte queste cose puoi guardare il video training gratuito che trovi anche in descrizione, puoi parlare anche con i nostri tutor e capire un po' come funzionano ad esempio i nostri programmi formativi o quant'altro, così da essere guidato, da venire guidato in questo processo di miglioramento. Detto questo, la comunicazione, e tra poco concludiamo, da che cosa è composta? Ci sono 4-5 elementi della comunicazione su cui devi lavorare. Quali sono questi elementi comunicativi che ti permettono di realizzare tutte queste cose? C'è la voce, la mente, la mente sotto forma di mindset e sotto forma di capacità di utilizzarla per visualizzare, per gestire le emozioni e tutta una serie di altre cose. Quindi una mente che sia preparata, una voce che sia modulabile, un corpo, un corpo che sia libero, che sia sciolto e che possa entrare in contatto col mondo emotivo, che possa sentirsi a proprio agio nel momento in cui comunica con poche persone o con tante persone su un palco o in video e poi ci servono delle parole che si incollino al messaggio, a quello che la mente, il corpo e la voce dicono, quindi devono essere parole emozionali che vanno a condire i nostri discorsi. Oltre alle parole emozionali ci possono essere le figure retoriche, ci possono essere una serie di altre cose e tutto questo va a generare la cosa più importante che sono le emozioni. Quindi riuscendo a governare questi elementi che sono gli elementi della comunicazione ti permettono questi elementi di generare delle emozioni. Le emozioni le puoi mettere in sequenza continuando a cambiare per riuscire a generare affidabilità e generare coinvolgimento, generare influenza. Ecco che allora riusciamo ad ottenere una comunicazione carismatica. Quindi comunicazione carismatica che cos'è la capacità di generare emozioni mettendo insieme integrando mente, corpo, parole, voce e tutto il nostro sistema comunicativo in un sistema integrato in maniera tale che in modo naturale, autentico, efficace, spontaneo, sciolto e coinvolgente e coinvolgente allo stesso tempo noi possiamo far sì che le altre persone si possano fidare, affidare a noi e anche noi possiamo influenzarle in un certo qual modo, specialmente in un modo positivo. Ok? Questo almeno è il consiglio. Prendo, mi levo da ogni responsabilità per fare il contrario. Non solo. In realtà voglio dirti anche questa cosa perché è giusto mettere i puntini sulle I. comunicazione carismatica per quello che è il mio sistema è un sistema che si basa fondamentalmente sulla verità, la verità assoluta. Cioè il motto è tutto ciò che è dentro subito fuori. È una cosa che mi diceva sempre il mio maestro Ciro Imparato tutto ciò che è dentro subito fuori ed è poi io mi baso molto anche sulla bioenergetica che è una disciplina di analisi bioenergetica che deriva da Reich, Lowen e poi il mio maestro Padrini e che fa sì che cosa che il corpo si è sciolto e libero di esprimersi dove c'è la trinità bioenergetica la tridimensionalità bioenergetica del respirare muoversi e commuoversi quindi entrare in contatto con il mondo emotivo liberarlo ed essere spontaneo nella nostra naturalezza nella nostra comunicazione quindi comunicazione carismatica funziona solo se c'è verità e se c'è quella sensazione di prendo l'emozione e la comunico ok quindi tutto ciò che è menzogna difficilmente riuscirà ad essere applicato e applicabile a comunicazione carismatica quindi se sei un politico comunicazione carismatica potrebbe risultare un pochettino difficile se sei una tipologia di politico quel politico che non crede tanto in quello che dice ma invece deve mentire perché fa ok così come per altre tipologie lavorative o per altre attività che puoi fare comunicazione carismatica potrebbe non essere funzionale perché per funzionare bene esattamente deve esserci una massima congruenza nella verità tra tutti questi elementi ok ecco questa era per mettere un attimino i puntini su lei quindi per mettere la precisione perché dice ah quindi posso mentire posso manipolare posso dire le falsità e quindi finocchiare la gente no a meno che tu non creda in quella falsità e allora qua si apre tutto un altro discorso ma direi che non non è il caso di trattarlo adesso quindi io ti ho detto già veramente tantissime cose quello che ti consiglio di fare è di andare a vederti il video training gratuito di comunicazione carismatica lo trovi nel link in descrizione per guardarti tutte queste cose ti spiego quali sono le quattro emozioni principali della comunicazione carismatica perché poi queste queste emozioni le dovrai mettere in sequenza per riuscire ad ottenere la certezza del risultato cioè sapere che quando apri la bocca o tutto andrà bene o andrà tutto bene se non va tutto bene adesso andrà bene dopo l'importante è saper comunicare con il giusto codice con la giusta sequenza emozionale per riuscire ad ottenere sempre questi risultati di cui abbiamo detto fino adesso d'accordo? quindi ti auguro una buona visione e vai avanti con la tua scoperta della tua migliore comunicazione del tuo migliore stile comunicativo carismatico liberalo lo stile carismatico perché è possibile togliti le corazze caratteriali togliti tutte le limitazioni togliti tutte le falsità che ti hanno sempre raccontato e ti hanno riempito la testa cambiare è possibile è solo una questione di responsabilità e poi di un po' di impegno pratico non fare il pigro fai la persona che crede in se stessa e soprattutto che agisce che impara qual è il sistema qual è la ricetta per ottenere effettivamente il risultato anche io una volta ero timido non ero per nulla carismatico non riuscivo a realizzare i miei obiettivi non avevo capacità di leadership mi sono trovato poi dopo che ho imparato tutta una serie di cose a creare una realtà che adesso è internazionale con cui aiuto veramente centinaia e migliaia di persone in tutto il mondo a migliorare questi aspetti la loro voce la loro comunicazione riuscire a vivere maggiori momenti di serenità di gioia di bellezza di piacere nel comunicare quindi anche per te l'invito è proprio questo goditi il piacere di comunicare impara a generare emozioni le emozioni che desideri e generarle anche degli altri per risultare affascinante carismatico e anche direi un pochino almeno indimenticabile comunicazione carismatica da oggi cambia tutto